Bene, avevo detto che vi avrei anche spiegato come far ruotare gli oggetti attorno a un'asse nel nostro caso l'asse Z quindi prendiamo questo piccolo modellino del sole e ci proponiamo di farlo ruotare quindi intanto vediamo che qui abbiamo quindi andiamo innanzitutto, visto che vogliamo fare l'animazione ci mettiamo in modalità animation e magari lo vediamo così, così lo vediamo tutto caruccio vediamo il nostro sole mentre gira quindi per ruotarlo dobbiamo avere una serie di keyframe che partono e qui lo vediamo dal quindi se qui andiamo nella tabella della linea temporale ecco qua, partiamo da uno e andiamo per esempio fino a 100 quindi cerchiamo di fare in modo tale che il numero di fotogrammi siano in quell'intorno quindi inizio 1 e fine 100 adesso qui, mi sono confuso anche poco fa normalmente nella videata iniziale questo dato è in cima ma visto che qui c'è già un altro dope sheet ve lo trovate in fondo quindi non fatevi confondere anche voi come è successo a me allora inseriamo la prima keyframe quindi facciamo mentre siamo qua e mentre siamo qua vedete che il keyframe iniziale c'è una rotazione che in questo momento è circa 0 noi possiamo fare i per inserire e inseriamo direttamente questa rotazione che sarebbero questi dati qua c'è x, y, z e w ora qui c'è la modalità di rotazione che può essere quaternione oppure la modalità di eulero quindi questo qua praticamente definisce come deve variare ad esempio rispetto ai vari cosi questo qui ruota lungo la y questo qui ruota lungo la z e direi che probabilmente è la cosa che è più semplice per voi tutti quindi facciamo ctrl z, ctrl z, ctrl z togliamo queste chiavi mettiamo alla rotazione la prima che troviamo x, y, z e a questo punto facciamo i rotazione vedete che a questo punto è comparsa la nostra prima chiave quindi andiamo nell'ultimo fotogramma 100 e diciamo che in questo ultimo fotogramma andiamo con lo z che arriva a 360 gradi in realtà per evitare che rimanendo a 360 gradi che riprende a 0 e poi si rimanga fermo un attimo come vedremo conviene mettere qui non 360 gradi ma un pochetto prima quindi 359 gradi quindi a questo punto se noi facciamo i i allora aspettate dunque facciamo i di questa rotazione vedete che abbiamo questi altri dati quindi se noi lo facciamo playare abbiamo tranquillamente il nostro sole che ruota quindi che arriva in fondo ecco quello che notate è che quando arriva in fondo il sole decelera e quando all'inizio parte accelera ecco questo è un effetto che si può che si può evitare usando la facendo una cosa abbastanza semplice che è quella di andare sempre nel qui ad esempio invece di andare nel dopsheet andiamo nel nostro shift f6 che sarebbe editor dei grafi e qua vedete che abbiamo vediamo praticamente il motivo per cui facciamo ctrl ctrl e così per ok per vederlo un pochino meglio ok vedete che praticamente quello che succede è che lui usa questa retta di interpolazione questa curva di bezier di interpolazione che però a noi non piace molto quindi per cambiare questa interpolazione cambiamo il canale e cambiamo l'estrapolation mode nell'estrapolazione lineare e a questo punto vedete che il sole ruota in maniera corretta allora voi direte come mai tutta questa complessità per far ruotare il sole è perché potendo ragionare su queste curve si riesce a fare degli effetti molto più potenti che non a semplice rotazione quindi siamo proprio a un livello molto più alto rispetto a quello che si può fare ad esempio con la semplice rotazione che c'è in second life o in open sim o in altri mondi di questo tipo ora questa cosa qua potrebbe anche funzionare così e proviamolo a vedere se funziona facciamo un file export anzi facciamo un file save as e ce lo salviamo come sole ruotante ma lo esportiamo altresì quindi esporta in glTF e lo mettiamo sempre in facciamo i documenti e lo facciamo in planets e qui lo mettiamo come sole ruotante e vediamo se effettivamente abbiamo il sole ruotante effettivamente ruota effettivamente ruota quindi diciamo che abbiamo ottenuto già l'animazione corretta vi ricordo che però nel contesto di altre animazioni può essere opportuno fare il backing soprattutto se allora la rotazione semplice di questo tipo come vedete visto che l'abbiamo impostata come keyframe funziona senza fare altri casini ma se fosse fatta a lungo un modificatore particolare conviene probabilmente creare tutti i frame opportuni io direi che per la rotazione ah ricordate poi che comunque tutte queste cose vanno combinate insieme quando poi fate la rotazione della delle varie orbite quindi se mettete insieme il sole con altri oggetti dovete poi fare quel trucchetto che vi ho fatto vedere per la action NLA eccetera comunque per il momento questo è direi abbastanza soddisfacente grazie a tutti